La prima domanda generale che vorrei porle, professoressa, è se noi oggi siamo dotati di un apparato di regole sufficiente per governare un fenomeno così complesso. Assolutamente no. Quello è un fenomeno, quello dell'intelligenza artificiale, è un fenomeno che corre velocissimo. Siamo già dal momento in cui ho scritto quel volume, ad oggi le cose sono enormemente cambiate. Perché ancora lì era assolutamente solo in nuce il tema della possibilità di tipo predittivo dell'intelligenza artificiale. Era un qualcosa che si lasciava alla fantascienza, alla fantasia, ai film. Che cosa succede quando la fantascienza si traduce in realtà? Quando la capacità predittiva di un algoritmo arriva anche a dirti quella persona è pericolosa, quella persona ha delle caratteristiche, ragiono come un'intelligenza artificiale, perché le ho esaminate, sezionate, visti precedenti, catalogate, potrebbe commettere un delitto? Vi accontentereste di questo voi per arrestare qualcuno? Questo è già realtà, è la capacità predittiva, ma è una capacità precisa, è una capacità che ci appaga. O quel che noi abbiamo sempre creduto nell'etica essere la radice dell'uomo, il libero arbitrio, la possibilità di cambiare, la possibilità di migliorare, rappresentano veramente il limite invalicabile. Rispetto al quale esiste un'alternativa, che però credo tutti rifiuteremmo come venne rifiutata da tutta la teorica del diritto penale, nonostante si fosse formata in un periodo che è durato parecchio, il periodo del nazismo. Ricordiamo la teoria del delinquente nato, che era una teoria non affidata alla predizione dell'algoritmo, ma che individuava una serie di caratteristiche, le origini, la società, la famiglia, le condizioni di vita precedenti e contemporanee poi al diritto, per dire quello era un delinquente nato, e dunque deve essere punito e non può essere neanche reeducato. Beh, io credo che questo ritorno al passato non lo possiamo fare affidandoci al futuro della intelligenza artificiale. Anzi, noi dobbiamo fare in modo che l'intelligenza artificiale si lasci usare, sia addomesticabile, sia utilizzabile. Io non ho paura dell'intelligenza artificiale, non dobbiamo averne paura. Dobbiamo anche ammettere che l'intelligenza artificiale sarà capace di completare l'incompiuta in chiave musicale, o di scrivere un testo giuridico, di scrivere un testo romanzato. Perché no? Non crediamo di essere gli unici detentori dell'intelligenza. Anzi, noi sappiamo che l'intelligenza artificiale non è stupida. C'è una bellissima definizione che qualcuno ha dato, che adesso vi voglio trovare, ma non la troverò sicuramente se avessi un po' di intelligenza artificiale, la troverei di sicuro, ma non ce l'ho, non ce l'ho ancora. Eccola. L'intelligenza artificiale non è mai stupida, perché lo stupido si rifiuta di imparare perché ritiene di non aver bisogno di altri che di se stesso. Invece l'intelligenza artificiale è esattamente l'opposto. Ritiene di dover imparare sempre, continua ad acquisire elementi, dati, implementa la propria capacità di non sbagliare. Ma sol per questo posso sostituire il giudizio umano. Se io vi chiedessi, preferireste essere giudicati da un robot o da un uomo o da una donna, che sia? Preferireste essere difesi da un avvocato in carne e ossa, oppure da una macchina che attraverso gli algoritmi analizza i precedenti? Ed è qui che ci misuriamo con la capacità predittiva del computer o dell'intelligenza artificiale. Può bastare? Secondo me no. Anzi, noi dobbiamo regolamentarla per evitare che prenda il sopravvento, ma prenda il sopravvento in maniera anomala, in maniera disintermediata. Io mi resi conto di quanto fosse negativa la disintermediazione quando incominciarono a diffondersi le fake news. Perché le fake news si sono diffuse? Perché non abbiamo più avuto, o perlomeno non abbiamo avuto in termini assoluti, giornalisti, professionisti che, come è nel loro regole e nel loro DNA, devono intermediare, devono scegliere tra la notizia vera e quella falsa, perché sanno di avere una responsabilità. La macchina ha una responsabilità per le fake news? La diffusione delle fake news può essere ricondotta a un meccanismo di intelligenza artificiale? No. Può essere semmai ricondotta all'inventore. Allora è in questa disarmonia tra regole che possono essere violate e intelligenza artificiale che può aumentare le proprie capacità di acquisire dati disintermediando, che noi troviamo la discresia tra regole e capacità di regolamentare il fenomeno. Fenomeno che cresce velocissimamente, un diritto che non gli sta dietro. Pensate a quanto tempo impiega il Parlamento per varare una legge. Anche un decreto legge comunque sconta i termini di conversione, quindi certamente i tempi non sono alla pari con la capacità dell'intelligenza artificiale di diffondersi, quindi violare la privacy, violare il diritto al copyright. Queste regole non sono state ancora create e dobbiamo soprattutto creare una coscienza sociale perché questo accada.